Risparmia l'acqua è la campagna di sensibilizzazione lanciata nei giorni scorsi da Giorgenti Acque. È importante usare l'acqua con cura e responsabilmente, ha dichiarato il gestore, in quanto tutte le fonti, gli invasi, le sorgenti, i pozzi sono interessati da siccità e la risorsa idrica a disposizione si è significativamente ridotta in provincia di Agrigento. Una iniziativa che a Sciac ha generato svariati commenti, un messaggio che molti hanno colto come la beffa che si aggiunge al danno se si tiene conto del fatto che da settimana e settimana si registrano disservizi e turni di erogazione che sono saltati. Altro che risparmiare, ci sono utenti che hanno le cisterne vuote e sono costretti a ricorrere ai privati oppure a trasferirsi a casa di parenti. Eppure anche in questo contesto ci viene chiesto di evitare sprechi, come se il costo dell'acqua poi inducesse a simili atteggiamenti. Insomma, succede di tutto e non si prevedono giorni migliori visto che, assieme al messaggio di sensibilizzazione, arriva comunque la comunicazione che Giorgenti Acque, per affrontare la situazione, ha adottato tutte le misure per la redistribuzione e il reequilibrio delle risorse idriche disponibili, ossia per ripartire equamente tra tutti i comuni gestiti e la riduzione rilevata con l'inevitabile allungamento dei turni di erogazione. Ci sarebbe da obiettare che la città di Sciacca, contrariamente ad altre, dispone di pozzi e risorse idriche che sarebbero più che sufficienti a soddisfare le esigenze della popolazione, ma come abbiamo preso dal direttore generale Gian Domenico Ponzo nel corso dell'ultima riunione al Palazzo Municipale, la nostra acqua viene dirottata verso altri comuni. E così dobbiamo anche subire la lezioncina sulla necessità di fare un uso responsabile dell'acqua, ammesso che ci venga erogata. Francamente, proprio in questo periodo, i consigli pratici di Giorgenti Acque su come risparmiare l'acqua rischiano solamente di inviperire ancora di più l'utenza saccenza.